Con questa a novembre ho festeggiato 30 anni di attività, quindi ho cominciato nell'81. Tredici anni fa ho costruito il mio primo clavicembalo, al primo strumento ora ne avevamo fatti 94, questo è il numero 94. La principale motivo per cui un giocatore va ad un luthier per avere un battaglio custom, è perché si può chiedere alcune mesi importanti che l'istrumento di produzione non può dare. È importante che se il cliente arriva con una idea clara in mente di quello che ha bisogno, il cliente sa che l'istrumento è unico. Il clavicembre ce n'è tanti tipi, ce n'è piccoli e grandi. Quelli piccoli ci può volere anche tre settimane per uno strumento veramente piccolo e come una spinetta. Da di lì poi si va a tre mesi per i clavicembre più grossi a due tastiere. È uno strumento che mi è sempre piaciuto. È particolarmente rispettoso proprio della costruzione architettonica della musica. Un millimetro su una gitarra è come un chilometro perché il giocatore può sentire la differenza più o meno di un millimetro. Il clavicembre cerca uno strumento rigorosamente artigianale. Il clavicembre è uno strumento che nasce imperfetto. Questa imperfezione lo rende anche peculiare e la possiamo usare per rendere meglio una certa interpretazione. Io penso alla gitarra, come toccare e ammbracciare una donna. Quando hai bisogno di contatto con i dettagli molto finiti, hai una relazione fisica con l'instrumento. Alla fine, se ho bisogno di essere vicino all'instrumento e lavorare per toccare la lettera. Un clavicembre, diversamente da molti altri tipi di strumenti a tastiera, ha bisogno anche di molta manutenzione. Bisogna saperla accordare, bisogna sapere fare certe piccole riparazioni. C'è una necessità di una abilità in più rispetto a un'opera d'arte, che ha una funzione visiva. Bisogna combinare la parte estetica, cioè fare un bell'oggetto. Deve anche funzionare. Io devo capire quello che vuole il cliente e, se il cliente non lo sa, devo cercare di far capire a lui cos'è che lui vuole. Se sono Bach voglio un certo timbro, se sono autori italiani del Cinquecento ne voglio un altro. L'esecutore usa quello strumento sfruttando le caratteristiche timbriche scelte e ammonte dal costruttore di questo strumento. Grazie a tutti.